Di Renzo per commentare subito questa vittoria che è stata netta, abbondante e supermeritata al termine dei primi 45 minuti. Sì, secondo me ha fatto uno dei primi miglior tempi della stagione, non c'è stata partita, la squadra sta bene sia dal punto di vista fisico che tecnico. Partita strepitosa a mio giudizio nei primi 30 minuti di Veroli nel primo tempo, dove lo manderai? No, bisogna parlare col Presidente, però ha fatto una partita fantastica, Davide sta dimostrando, sta crescendo in personalità, in qualità. Aggiornaci sulle trattative per Veroli e Delle Monaco. Ma no, nessuna trattativa, ma le trattative le fa il Presidente. Di Renzo arrivano le richieste. Sì, però noi cerchiamo di curare solo gli interessi del calciatore e cercare di tutelarlo. C'è qualche possibilità che si concluda già entro domani sera un passaggio, magari restando a Pescara fino a giugno? Il mercato è sempre qualcosa di imprevedibile. Massimo, non sta smettendo, attenzione. No, no, se qualcuno l'ha visto oggi sicuramente ha fatto un gran partito.